Musica Buonasera, bentrovati dalla redazione. In apertura questa sera la nuova clamorosa sfida del noto illusionista palermitano Cristian Carapezza. Dopo il successo ottenuto in Italia con Tusiche Valles e con Italia's Got Talent e all'estero in programmi che l'hanno visto protagonista in Francia ed in Albania Carapezza si prepara per una nuova grande sfida. L'evento The Cube che era stato progettato l'anno scorso dopo la pausa obbligatoria per l'emergenza coronavirus potrà finalmente partire. Dal 7 novembre per circa un mese Cristian Carapezza rimarrà chiuso in una scatola di vetro solo e senza cibo all'interno del centro commerciale Concadoro di Palermo. sarà un evento senza precedenti in Italia, una sfida ardua e oltre ogni limite. Una sfida che questa redazione, proprio perché si tratta di un appuntamento straordinario, seguirà giorno dopo giorno. E adesso passiamo alle altre notizie del telegiornale.